Nessuno si azzardi a modificare la giustizia insieme al partito capeggiato da un delinquente. Il Movimento 5 Stelle non starà a guardare né si limiterà a interpellanze parlamentari, ma bomiliterà i suoi elettori. Punta dritto contro Napolitano Beppe Grillo, contro il Napolitano che con la nota ufficiale diramata poco dopo la sentenza, insieme al rispetto espresso per la magistratura, aveva poi scritto di ritenere a uspicarsi condizioni più favorevoli per l'esame in Parlamento dei problemi relativi all'amministrazione della giustizia. Grillo la parola amnistia non la nomina, ma scrive «Le coincidenze non esistono e questa fretta di riformare la giustizia dopo la condanna di Berlusconi è altamente sospetta. Letta, nipote, la vuole. Servirebbe a tirare a campare. Capitan Letta Findus ama Berlusconi, deve tenere il pallino del governo delle larghe intese voluto da Napolitano». Berlusconi, però, retrocesso da Cavaliere a Fantino, sottolinea Grillo «In vent'anni non ha fatto tutto da solo. Per concludere, in modo perentorio, la giustizia non si tocca, la Costituzione non si tocca, messaggio inviato, Quirinale, messaggio inviato». Complementare all'attacco, arriva dal Parlamento sempre via rete il messaggio audio-video lanciato dal senatore Vito Crimi, in cui il Movimento 5 Stelle chiede ufficialmente che il Senato deliberi immediatamente sulla decadenza di Silvio Berlusconi per incandidabilità sopravvenuta e chiede la convocazione della giunta per l'elezione già da lunedì. «Non è nella disponibilità del Senato, dice Crimi, esercitare una scelta politica su una decisione che è già vincolata dalla legge. Appare del tutto irragionevole che il Senato possa maturare scelte di formi. Non ci sono più scuse. Riteniamo sia necessario restituire al Parlamento la dignità che merita».